La rivoluzione della buona scuola continua e arrivano nuove regole per i trasferimenti degli insegnanti. Le visite specialistiche prenotate attraverso WhatsApp, l'iniziativa dell'ASP di Palermo. In Sicilia soppresse le circoscrizioni, proteste ad Aspra. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews, oggi è giovedì 11 febbraio. La rivoluzione della buona scuola continua e arrivano nuove regole per i trasferimenti degli insegnanti. Nascono gli ambiti territoriali, ecco di cosa si tratta. Ancora novità nel mondo della scuola. La prima è arrivata ieri con l'intesa raggiunta tra il Ministero dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali sul contratto integrativo sulla mobilità del personale e coinvolge gli insegnanti per il prossimo anno scolastico 2016-2017. Diventano realtà i cosiddetti ambiti territoriali, rispetto a cui gli uffici scolastici stanno fornendo le prime indicazioni e le chiamate dirette dei dirigenti scolastici. In sostanza vuol dire che non basta più presentare domanda di trasferimento in un'altra scuola e sperare di avere più punti accumulati con anni di servizio e titoli perché adesso la richiesta non si presenta per una scuola ma per un ambito territoriale e sarà il preside a decidere chi accogliere e chi respingere nella propria scuola con contratti di tre anni. Per quanto riguarda i docenti messi in ruolo entro lo scorso anno scolastico nel caso di esito positivo della domanda di mobilità provinciale o del trattamento d'ufficio gli insegnanti mantengono la titolarità della sede sia a conclusione dei trasferimenti sia dei passaggi differente la situazione nel caso di accettazione della domanda di mobilità su base interprovinciale. In questo caso l'insegnante mantiene la titolarità della sede solamente nel caso di assegnazione a una delle scuole inserite nell'ambito indicato per primo nella domanda. Negli altri casi perderà la titolarità, sarà collocato nell'ambito e assoggettato alla chiamata diretta del dirigente scolastico. In Sicilia gli ambiti territoriali saranno 26, due per ognuna delle province più piccole Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, tre per quella di Messina e cinque per la provincia di Catania. Palermo e provincia sono state suddivise invece in un totale di sei ambiti. Eni di Gela sotto processo per danni ambientali. Il Comune chiede 80 milioni di euro per gli operai ammalati e legali avvertono. Se l'azienda sarà condannata dovrà andarsene. Non è una minaccia ma sappiate che se il Tribunale di Gela dovesse accogliere il ricorso straordinario per presunti danni derivanti da un inquinamento industriale, finora privo dell'onere della prova, si metterebbe in discussione il protocollo d'intesa con i suoi investimenti. 2,2 miliardi di euro è la stessa presenza dell'Eni nel territorio. Ad affermarlo, ieri è stato lotario Dietrich, avvocato dell'Eni, durante l'udienza del Tribunale Civile chiamato a pronunciarsi sulla richiesta straordinaria degli avvocati Fontanella e Vassallo in rappresentanza di 500 cittadini di fermare gli impianti ancora in marcia al petrolchimico di Gela e le altre attività che starebbero continuando a produrre inquinamento ambientale con effetti nocivi sulla salute della popolazione. Tra i ricorrenti c'è anche il Comune di Gela, il cui legale ha chiesto a carico dell'Eni l'istituzione di un fondo provvisorio di ben 80 milioni di euro a sostegno dei lavoratori colpiti dai veleni industriali. La risposta non ha tardato ad arrivare. L'Eni assicura che l'intero stabilimento è fermo da mesi e che hanno da temere di più i milanesi per l'alto tasso di micropolveri che i gelesi per la presenza del petrolchimico. Intanto il giudice ha deciso di aggiornare la seduta al 25 febbraio per consentire all'azienda di prendere visione dei nuovi atti e preparare le repliche. Tra le richieste a Leni è anche un indennizzo per danni morali ed esistenziali che i legali ipotizzano in una decina di migliaia di euro per ciascun aderente, il fermo degli impianti ancora attivi, la sospensione delle nuove trivellazioni previste e l'immediata attivazione delle bonifiche. A ciò inoltre va aggiunta la richiesta di 15 milioni di euro di risarcimento avanzata sempre nei confronti delle società del gruppo Eni da un gruppo di familiari di 12 bambini nati con malformazioni ai quali è stata riconosciuta la correlazione con l'inquinamento industriale. La comunicazione ha il potere di creare ponti, di favorire l'incontro e l'inclusione arricchendo così la società. Le parole possono gettare ponti tra le persone, le famiglie e i gruppi sociali. Persino quando deve condannare con fermezza il male cerca di non spezzare mai la relazione e la comunicazione. Lo scrive il Santo Padre Francesco nel messaggio della cinquantesima giornata delle comunicazioni sociali. Partendo da questa affermazione a Palermo si è svolto un incontro sul tema comunicazione e misericordia, come comunicare la misericordia e il perdono nell'anno del Giubileo. Ascoltiamo l'Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice. È complicato ma potrebbe essere anche semplice. Se prendiamo l'esempio di Gesù, lui alla parola univa sempre i segni. La parola già è segno, segno fonetico, ma si è accompagnata anche dal gesto è più facile. Se io parlo di misericordia e lo faccio mentre abbraccio un fratello con il quale ho avuto magari qualche cosa, già questa è una parola più comunicativa. Oggi avremo qui la presenza anche di un rappresentante della Chiesa Ortodossa russa. Questo è segno, questo è segno che comunica la sostanza, che noi ci dobbiamo incontrare, che deve prevalere l'incontro sopra la divisione. È misericordia guardare l'altro in faccia nella rettitudine di intenzione, mettendo da parte quelli che possono essere i personalismi. E questo lo dobbiamo fare perché abbiamo cose serie in comune da affrontare. Quindi già questo è un segno di misericordia, cioè avere un cuore retto, predisposto ad accogliere l'altro nella verità. Cambiamo argomento alle visite specialistiche prenotate attraverso WhatsApp, l'iniziativa dell'ASP di Palermo, che mette a disposizione degli utenti una nuova forma di interazione. Dopo il cambio medico online, l'esenzione ticket su internet, i referti di radiografie ed analisi cliniche in rete, adesso l'azienda sanitaria provinciale di Palermo attiva un sistema di prenotazione di visite specialistiche, rapido ed immediato attraverso smartphone e tablet. Ascoltiamo il direttore generale, Antonio Candela. E' un altro servizio in più, oltre il medico online, l'esenzione online, già i numeri ci hanno detto che 485 mila sono i palermitani che li hanno utilizzati, un nuovo servizio. Adesso la possibilità di effettuare le prenotazioni anche via WhatsApp. Come funzionerà dal primo marzo? E' una procedura semplice, intuitiva, semplicissima, così come le precedenti. L'utente, comodamente non più da casa, anche in automobile, voglio dire, se è ferma, fa una fotografia attraverso il suo cellulare della ricetta rossa, del medico di medicina generale, la manda direttamente ad un numero dedicato e si può effettuare quella che è la prenotazione. Ma è un servizio in più, dico, perché comunque chi non volesse farlo via WhatsApp lo può fare attraverso il nostro sportello, che è quello online, dove troverà, oltre già agli altri servizi attivati, anche questo di prenotazione online. Quindi diamo la possibilità a chiunque di scegliere se vuole utilizzare WhatsApp o vuole utilizzare comodamente anche il computer, ecco, di casa. Quindi praticamente rimarrebbero scoperti solo gli anziani? Sì, devo dire, sugli anziani, dei 485 mila palermitani, devo dirvi che il 30% sono anziani, perché abbiamo visto che, considerate che adesso anche alla popolazione anziana, il cedolino e la pensione arriva anche online. Quindi bene o male hanno un badante, un nipote, qualcuno che gli aiuta, o molto spesso anche loro stanno cominciando a diventare pure bravi a utilizzarli. Dico fermo restando che lasciamo chiaramente tutti i servizi potenziati, cioè il call center telefonico con 24 operatori, rimane sempre. Purtroppo abbiamo un numero eccessivo di prenotazioni, l'avete sentito, sono 886 mila le prenotazioni annue che noi gestiamo. Truffa ad anziani con falsi incidenti, sequestro da 1,7 milioni della Guardia di Finanza di Messina. I finanziari del nucleo di Polizia Tributaria di Messina, coadiuvati dai colleghi di Siracusa e Catania, hanno eseguito un ingente sequestro di beni nei confronti di due soggetti, ritenuti responsabili di numerosi reati di estorsione. I loro nuclei familiari, inoltre, risultavano per il fisco nullatenenti, ma in realtà erano proprietari di numerosi terreni e fabbricati nei comuni di Melilli e Noto, in provincia di Siracusa, nonché di diversi autoveicoli di nuova immatricolazione, tra cui un grande camper superaccessoriato e ingenti disponibilità sui conti correnti postali a loro intestati. In particolare, una precedente attività investigativa, condotta dalla stazione dei carabinieri di Villa Franca Tirrena, aveva portato all'individuazione e all'arresto di un uomo di 41 anni, Antonino Fiasquet, originario di Palermo, e di una donna di 29, Pamela Boscarino, di Siracusa, per truffa ed estorsione. Era emerso che loro due, appartenenti ad un gruppo rom-nomade con base nella provincia di Siracusa, operassero in tutta Italia, scegliendo accuratamente le proprie vittime, per lo più persone anziane. Accusavano i malcapitati di aver provocato un incidente stradale che avrebbe causato, oltre a danni fisici, anche la rottura del vetro di un orologio di pregio, minacciando di chiamare i vigili urbani per denunciare la presunta omissione di soccorso che avrebbe generato il ritiro della patente. L'unica soluzione prospettata all'individuo raggirato era quella di consegnare una somma di denaro di 4.000 euro corrispondente al prezzo del presunto orologio danneggiato. Con questo stratagemma, nel corso degli anni, sono riuscite ad accumulare risorse molto ingenti. Almaviva è il 16 e il 17 febbraio in piazza a Palermo. I sindacati chiediamo risposte chiare per un'occupazione di qualità e duratura. Sollecitano gli impegni presi per risolvere l'avvertenza che tiene appesa un filo alle sorti del call center e per questo tornano in piazza i lavoratori di Almaviva con due iniziative. La prima è il sit-in di martedì prossimo di SLCCGL, Fistel CISL, Wilktem Will e UGL Comunicazione presso l'assessorato regionale alle attività produttive. La seconda è uno sciopero fissato per il 17 febbraio con un corteo che da piazza a croce arriverà in prefettura. Due gli obiettivi da raggiungere l'assessore alle attività produttive Marilla Lobello e il prefetto di Palermo Antonella De Miro. L'assessore Marilla Lobello 15 giorni fa si era impegnata a convocare i sindacati. Aspettano la conferma dell'incontro per uscire fuori dall'incubo che tiene i lavoratori sospesi da troppo tempo ormai. Se l'incontro sarà proficuo i sindacati sono disposti a rivalutare le loro azioni ma se ne ricaveranno un buco nell'acqua questo sarà solo l'inizio di una grande battaglia per salvare l'occupazione della più grande azienda di Palermo e ribadiscono la necessità di puntare sulla città con commesse robuste e un lavoro di qualità. Chiedono chiarezza e anche un segno concreto sulla sede e sul futuro di questo gruppo industriale a Palermo. Amat salta il confronto sui turni i Cobas e UGL proclamano lo sciopero in un anno persi 1,6 milioni dalla vendita dei biglietti. Venerdì 26 febbraio i lavoratori dell'Amat incroceranno le braccia dalle 11.30 alle 15.30 lo sciopero è stato proclamato da Cobas ed UGL dopo che l'azienda ha rinviato a data da destinarsi il confronto sulla proposta di modifica dei turni. Il nuovo nastro lavorativo e la riorganizzazione delle linee di autobus in vigore dal 1 gennaio hanno trasformato la mobilità dei cittadini in un vero e proprio calvario. I sindacati invitano la cittadinanza a supportare la protesta dei lavoratori. Il management dell'azienda aggiungono non solo si sta sottraendo ad un confronto su temi che riguardano la produttività dei lavoratori e il servizio reso all'utenza ma sta dimostrando una certa inadeguatezza nella programmazione e nella gestione dell'azienda. A certificarlo sono i dati sui ricavi dei biglietti. Nel 2015 l'Amat ha incassato 5,7 milioni di euro dalla vendita dei ticket contro i 7,3 milioni nel 2014. Ciò significa che c'è stato un crollo di ricavi pari a 1,6 milioni. I primi dati relativi al 2016 sarebbero tutt'altro che incoraggianti. Nonostante la spinta del tram, a gennaio complessivamente le vendite dei titoli di viaggio dovrebbero attestarsi a quota 400 mila euro. In base ai numeri diffusi da Amat e Comune, dicono ancora i sindacati, nelle linee del tram sono stati obliterati 250 mila biglietti con un incasso di 350 mila euro. A conti fatti, dunque, il dato sul gommato non arriverebbe nemmeno a 100 mila euro. Le previsioni di nuovi introiti, inclusi quelli derivanti dall'istituenda ZTL, concludono i sindacati e rischiano di essere bruciati da una gestione aziendale poco oculata. Il sindaco di Palermo, Le Luca Orlando, ci riprova dopo il flop di due anni fa il via un nuovo piano per riqualificare la favorita. Il modello circonvallazione si estende anche alla favorita di Palermo. L'idea è quella di rilanciare il progetto, dimenticando il flop della chiusura al traffico di due anni fa per far tornare fruibile il polmone verde della città, che secondo gli annunci della campagna elettorale sarebbe dovuto diventare come il Central Park di New York. Il sindaco Le Luca Orlando dunque ci riprova e dopo aver annunciato la rimessa a nuovo della circonvallazione su cui stanno già operando in questi giorni 141 operai, adesso tocca alla favorita. Entro pochi giorni, ha spiegato Orlando, dobbiamo avere un vero e proprio piano straordinario per la favorita, che ora che venga presa di petto sotto tutti gli aspetti, dalla pulizia al decoro alla fruibilità da parte dei cittadini. Se per la circonvallazione sono stati necessari 150 addetti, forse per la favorita ne serviranno 200 o più, ma è certo che tra qualche settimana l'intero parco dovrà essere del tutto fruibile ai cittadini, che ne diventeranno dunque i custodi. Oltre e subito dopo gli interventi per il decoro, l'intenzione dell'amministrazione è quella di realizzare un vero piano di uso partecipato del parco. La favorita, spiega Orlando, è una grande risorsa per tutti i cittadini e siamo certi che in tanti vorranno e potranno proporre iniziative per manifestazioni, attività e piccoli progetti che aumentino le occasioni di svago, di sport e di utilizzo intelligente di questo grande polmone verde. Con la legge regionale 7 del 2014 sono state soppresse le circoscrizioni. Alcuni deputati all'Ars stanno tentando di ripristinare quella di Aspra. Ascoltiamo perché. Allora, in realtà non c'è in discussione un progetto di legge per sopprimere le circoscrizioni. Le circoscrizioni sono già state soppresse con la legge 7 del 2014. Ci siamo accorti, anche e confrontandoci spesso con la circoscrizione, che per un territorio come quello di Aspra e territori che hanno una loro storia, una loro valenza economica e sociale, la presenza in un presidio politico sul territorio è necessaria. Per cui stiamo introducendo un emendamento che di fatto ripristina la circoscrizione di Aspra in un disegno di legge che modifica la legge elettorale comunale che è in discussione in questo momento nella mia commissione. Sentendo di questa legge di soppressione dei consigli circoscrizionali ci siamo allarmati perché noi non vorremmo perdere questo organo politico che tanto ha fatto di che se ne dica sul territorio di Aspra. Ci siamo allarmati, oggi siamo qui per discuterne, abbiamo invitato tutta la commissione la commissione è all'Assemblea regionale siciliana, siamo con l'onorevole Siracusa, abbiamo invitati altri onorevoli, li stiamo aspettando e così parlandone per vedere se si può mantenere insomma la circoscrizione di Aspra che è importante per il nostro territorio e per i nostri concittadini. Allora la cosa è semplice, Aspra ha con sé, porta con sé una grande opportunità che è quella che viene restituita ad un organismo di rappresentanza della volontà popolare. In un momento come questo in cui il livello nazionale vede delle norme che sono il frutto di scelte compiute da nominati, in un momento come questo in cui la politica è lontanissima dalla gente, abbiamo abolito i consigli provinciali e sembrava che questo avrebbe dovuto portare grandi risparmi e grandi razionalizzazioni, mentre invece gli sprechi ci sono ma sono sicuramente altrove, prendersela con un organismo che di fatto non ha costi perché il consiglio di circoscrizione in questo caso di Aspra non ha un gettone di presenza, mi sembra come dire un accanimento verso la forma di partecipazione dei cittadini. Io personalmente sono dell'idea che andrebbero infatti invece fatti dei tagli a livello nazionale, laddove la politica è distante dai cittadini e valorizzare invece diciamo quelle forme di partecipazione e di condivisione dal basso che come nel caso di Aspra stanno funzionando nel territorio. Reato di tortura, quando la legge, questo è il tema di un importante convegno organizzato all'Associazione Antigone che si terrà a Palermo domani alle 16 presso la sala conferenze della regione siciliana in via Magliocco. L'evento, fortemente voluto dall'onorevole Pino Apprendi, vuole accendere i riflettori sulla sicurezza dei cittadini, un tema di profonda importanza per la tutela di tutti noi. Al convegno sarà presente tra gli altri Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il giovane morto dopo un pestaggio in questura. Parteciperanno inoltre avvocati e docenti di diritto dell'Università di Palermo, di Roma e di Foggia. A liceo classico scaduto di Bagheria è stato inserito un nuovo indirizzo, quello delle scienze umane. L'intervista. Il liceo delle scienze umane oggi, in una linea di continuità abbastanza evidente, l'eredità del cessato istituto magistrale nel 1997 che è stato sostituito dall'istituto socio-psicopedagogico e che da sei anni a questa parte è diventato con la ministra Germini liceo delle scienze umane. Ancora nell'immaginario collettivo degli italiani c'è il liceo classico, il liceo scientifico come polo culturale alto della formazione secondaria e poi gli istituti tecnici, professionali e via discorrendo. Fermo restando che non c'è scuola italiana, non c'è tipologia di scuola che non abbia un'alta valenza formativa, il liceo delle scienze umane comunque sta nell'ambito della rideterminazione del sistema dei licei. La sua specificità, a differenza del vecchio istituto magistrale che non esiste più dal 1997, sta nel fatto che non è una scuola professionalizzante perché da vent'anni a questa parte in Italia per diventare maestro o maestra della scuola di primo grado bisogna conseguire una laurea specifica e poi un'abilitazione specifica. Allora dice ma cosa sono le scienze umane? Qual è lo specifico culturale di questa scuola? È una scuola in cui diciamo quello che è il focus dell'apprendimento gira attorno a materie come l'antropologia culturale la sociologia la pedagogia la psicologia cioè tutto ciò che riguarda la formazione dell'identità dell'individuo nel tempo e della sua individuazione e quello che riguarda diciamo la formazione del corpo sociale l'individuazione del corpo sociale. Ed è tutto grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.